Si chiama Andrà Sunshine e continuare a rendersi protagonista di quello che coppie. Dopo aver vinto uno sbombone nella Bretagna, oggi come oggi si ritiene una donna veramente soddisfatta della sua vita e della sua esistenza. Ed è apparsa di recente molto sexy su Instagram, esponendo le sue belle grazie, ossia i suoi bellissimi seni. Sono orgogliosa delle mie dette, che sono naturali, vere al certo per certo. La donna si congratula con se stessa, si complimenta con se stessa, è felice di se stessa. È raggiante, giuriva, mostra fieramente, parlando i suoi segni, che non perdono occasione di farsi notare bene e di diventare fenomeni virali superiore. Ha avuto un epomediatico pazzesco, la donna in questione, sensuare più che mai, Andrà Sunshine, riesce in qualche maniera a bucare letteralmente lo schermo, grazie alla sua sensualità e al suo marcato, gusto di essere erotica in ogni momento, in ogni circostanza. Bene, complimenti di Andrà Sunshine, il video di Ermi Acqua, scrivetevi i commentari, ciao!